Se c'è un argomento che nell'ultimo anno, anno e mezzo, proprio mi è mancato di parlare qui sopra, sono i libri. Lo sapete, l'ho scritto pur recentemente su YouTube, nei post di YouTube, focalizzandomi molto sulla parte di intelligenza artificiale, mi è mancato di parlare di libri, e invece io sul canale YouTube ho sempre, storicamente, parlato di libri, di tantissimi libri. E siccome nell'ultimo periodo, devo dire la verità, ho letto un sacco di roba fica, sull'AI ma anche su altri argomenti, Voglio riprendere a parlare di libri, e il libro di cui voglio parlare oggi è questo qua, ve lo inquadro pure, perché sta guardando il video, Million Dollar Weekend, di Noah Kagan. Chi è Noah Kagan? Lui è uno dei primi dipendenti di Facebook, proprio, se non sbaglio, tra i primi 10, tra i primi 20, veramente di Facebook all'inizio. La sua storia è abbastanza famosa, per chi segue, diciamo, un po' le cose delle notizie del business americano, il mondo della Silicon Valley, fu licenziato, no? Lui l'ha raccontato anche spesso in video, sul suo blog, no? Eccetera, eccetera. E poi ha fondato una serie di aziende di successo, e oggi, al momento, diciamo, tra le varie cose che fa, è anche il boss di AppSumo. Io adoro tantissimo i suoi contenuti, perché leggevo il suo blog, quando faceva solo un blog, poi è passato su YouTube, su YouTube ha spaccato, è cresciuto in tantissimo tempo, e vi devo dire la verità, ho adorato anche sto libro. E non è banale sta cosa, perché non sempre chi è forte nei contenuti, può esascrivere anche libri. Non tutti quanti sono come il sottoscritto, da tutta parte. Cioè, senza, ci sono un sacco che sono, magari, fortissimi quando li leggi in un blog, in un articolo corto, sono anche bravi, no? Davanti alla camera, su un video. Poi, ovviamente, se devi scrivere 200 pagine, come in questo caso, non è detto che il libro sia interessante, sia utile, sia con lo stesso ritmo di quello che uno può fare sul blog o sui video. Allora, Million Dollar Weekend, di cosa parla? Come categoria, un libro di business, è il video di la verità. Io mi ero molto annoiato dei libri di business. Negli ultimi anni ne avevo letto veramente pochi. Ovviamente, facendo l'imprenditore da una vita, è la categoria di libri che forse ho letto di più in assoluto, no? E ovviamente, se leggi tanta roba su un argomento, è chiaro che poi più o meno sono sempre i stessi concetti, non è che i libri ti fanno dire wow. Questo qui, invece, è stato veramente fico. Veramente, veramente fico. Perché, vabbè, diciamo, come stile c'è proprio una ventata d'aria fresca, nel senso che è proprio lo stile di Noah. Quando vi leggete il libro, se avete visto qualche suo video su YouTube, ascoltato il podcast, anche visto interviste, letto il blog, lo vedete proprio che è il suo stile, no? Molto diretto, molto schietto, molto simpatico. E nei libri di business non è sempre così. Molti libri di business sono impostati, no? Sono quasi accademici, universitari, come approccio, come taglio, tranne dare eccezioni. Il titolo è un po' wow, un po', diciamo, all'americana, no? Perché è Million Dollar Weekend, è il weekend da un milione di dollari. Il sottotitolo è il sorprendente modo per lanciare un business da seven figures in 48 ore. Ora, mettete un attimo da parte titolo e sottotitolo. Perché vi dico questa cosa? Perché certi titoli e sottotitoli funzionano sul mercato americano. So che noi italiani siamo un po' più scettici su certe cose. Se uno legge, ma come, questo è il libro che svele i segreti, svele i trucchi, no? Fa fare un business in un weekend. Ovviamente il titolo è un po' forviante. Di cosa parla? Parla fondamentalmente di come mettere in piedi un business da zero, cioè un progetto da zero, una startup da zero, no? Se volete. Se questo vale per chi, diciamo, sta iniziando. E magari ha proprio il sogno di avere una sua startup. Oppure per qualcuno che magari fa già impresa e vuole comunque cambiare, vuole fare un progetto nuovo e così via. E fondamentalmente fa vedere un po' un processo completo, dall'A alla Z, e questa cosa importante, molto molto pratico, molto molto concreto, con il quale potete mettere in piedi il progetto. Parte proprio dall'idea, e quindi no, se avete già un'idea, oppure se siete alla ricerca di un'idea. E questa cosa è figa e non tutti quanti ne parlano nei libri. Perché ci sono sempre libri che danno per scontate, che uno l'idea ce l'abbia già chiara, no? Sappia già cosa fare, dove andare e così via. Invece uno li parte proprio da zero. Ce l'hai l'idea, non ce l'hai l'idea. E da quello ti porta a fare tutti i passaggi fondamentali. Senza fare la parte accademica. Che poi è sempre stato il mio approccio. È un approccio molto pratico, molto diretto, molto sul campo. C'ho l'idea, mi tiro sulle maniche, bam, faccio subito il prototipo, lo testo sul mercato. Non è che metta a fare la presentazione PowerPoint, il business plan, queste cose qua, che si trovano spesso in molti libri. Quindi dicevo, mettete un attimo da parte il titolo, perché può essere forviante. Lo so perché l'ho regalato a un amico, che ha intenzione di, probabilmente, di lanciare qualcosa di suo. E quindi quando glielo l'ho regalato, ho dovuto fare questa premessa pure su di lui. No, gli ho detto, Michele, guarda, il titolo sembra un po' così. Però ti giuro che dentro è molto, molto concreto. Vi faccio vedere, vi avrò qualche pagina dove si vede un po' di... Cioè, guardate, è proprio molto, molto concreto. Vedete? Screenshot, tabelle, esempi, tantissimi esempi. Sia di cose sue, sia di cose no, fiche, che vi segnala di altri, eccetera, eccetera. Molto, molto basato sulla sua esperienza. E questa è una cosa che nei libri di business apprezzo sempre tanto, no? Quindi non tanto il concetto teorico, che va bene magari in un libro universitario, no? Sto all'università, sto studiando, che ne so, economia aziendale, sto studiando marketing e comunicazione. Allora mi fanno studiare, no? Dei grandi nomi, che proprio là ci sarebbe da dire tantissimo. Vabbè, diamolo per un attimo per buono. Questo è molto pratico, questo è proprio per dire, senti, ma tu hai un'idea in testa e vuoi metterla sul mercato? Ma ti dico come si fa? E soprattutto come lo fai in 48 ore. Anche qui non è che 48 ore ti devi mettere col timer in mano, però il senso è come ti faccio a far testare subito? Come ti faccio a trovare subito i primi clienti? Come ti faccio a far vedere se il business si tiene in piedi? In modo tale che se non si tiene in piedi togli subito di mezzo, no? O la modifichi, o ti butti su un'altra idea, o comunque cambi. Fai il pivot, quello che si dice tecnicamente nel settore. C'è un capitolo che secondo me è il migliore, non mi ricordo se è il 4 o il 5. È il capitolo proprio sulla validazione. Fatemi vedere se è il 4 o il 5. Sì, è il 5. The 48 hour money challenge, no? Quindi la sfida dei soldi in 48 ore. Dove fondamentalmente lui dice, avanti e poi la gente perde tempo quando deve lanciare un progetto, quando deve fare un business, a fare progettazioni, eccetera, eccetera. Invece la cosa più importante è vedere, ma la gente ti paga? Cioè, tu quando vuoi fare qualcosa, se c'hai una cosa in testa, poi la gente effettivamente ti paga? E dico, questo è sempre stato dell'approccio anche mio, no? Molto molto diretto. Penso, faccio prototipo, bam, vado subito online per vedere se la gente è disposta a pagare. E poi dopo la sei migliore nel tempo. Non è che lavori 4 anni su un'idea, poi la cacci e scopri che quella cosa non interessa a nessuno e nessuno ti vuole dare una lira, no? Per quella cosa. Meglio procedere per step. Diciamo, questi sono concetti che sul piano teorico, no? Se volete tutto il mondo lean, eccetera, eccetera, stanno in giro da un po'. Non è che qua dentro, no caga, non si è inventato niente di nuovo, ma nessuno si inventa niente di nuovo nei libri. Secondo me la cosa interessante, che poi è una cosa che vi ripeto pure spesso io qua sopra, no, non è. E' che non devi dire qualcosa di unico, ma devi essere unico nel dire qualcosa. E questo solo me lo è riuscito benissimo. Quindi, questi sono concetti che sulla teoria e sulla parte proprio accademica stanno in giro veramente da decenni. Tutto il mondo lean, no? Tutto il mondo agile, quindi come muoversi veloce, come sperimentare con poco budget, eccetera. Proprio lui lo mette giù veramente alla grande. Vi fa degli esempi, vi fa esempi come sempre, no? Sia sulla sua esperienza, sia su altri. Ma proprio fisicamente ci stanno gli screenshot, ci stanno i copy, ci stanno le mail, no? Le tabelle proprio con i numeri, vi fa i calcoli. E quando nei libri di business si usa questo approccio, secondo me è un libro vincente. Ovviamente ci sono alcune cose che nel mercato italiano non possono essere copiate e incollate. Va sempre fatto un minimo di contestualizzazione. Ma questo vale sempre, non vale solo per questo libro qua, no? Quindi al di là del titolo, è chiaro che lui sulle cifre, sui tempi va molto rapido. Vabbè, se c'è un mercato di, no, una nazione di 400 milioni di persone, o in generale l'inglese, no? Tutte le persone che lo parlano nel mondo. C'è un tipo di target. Sull'Italia, che è un pubblico molto più stretto, ovviamente certe cose uno deve ridimensionarle un pochino. Però secondo me non è mai là il valore del libro. Il valore del libro è nel processo che ti dà, nell'approccio proprio, nel mindset, se volete. E da questo punto di vista, secondo me, questo libro ha spaccato. Quindi per chi è, secondo me, come tipo di pubblico, a chi lo consiglio, allora, se voi fate già impresa, vi è strautile. Impresa è anche libera professione. Vi è strautile. Probabilmente alcuni concetti li conoscerete, però il modo con il quale lui li mette in sequenza, no? Ti dice, vabbè, tu forse queste cose separatamente le sai, ma io ti faccio vedere, fai prima A, puoi fai B, puoi fai C, puoi fai D, bla bla bla, e ti faccio arrivare fino a Z. Eppure io che sta roba la leggo da vent'anni, dentro ci ho trovato delle chicche super interessanti. Non è un libro spavaldo, e questa è una cosa importante. Molti libri americani invece lo sono, no? Sono molto spavaldi. C'è proprio quella da Piscina, Dubai, e Lamborghini, per capirci. No, lui non è mai stato un tipo così. Se lo seguite pure su YouTube, sul blog, sapete che non è mai quel tipo così. E non è nemmeno del giro della Silicon Valley, no? Quindi di quelli là, diciamo di quel mondo business di quel tipo. Quindi questa è una categoria di persone a cui sicuramente è consigliato. Straconsigliato a tutti quelli che invece vogliono partire con qualcosa, quindi per esempio persone che hanno intenzione di lasciare il lavoro dipendente perché vogliono fare la loro azienda, hanno un sogno nel cassetto di fare il proprio progetto. e il proprio progetto non deve essere per forza la nuova Facebook, no? Non devi rivoluzionare il mondo. Magari uno vuole fare una cosina piccola sua. Questo assolutamente consigliato anche in quel caso. Ma vi dirò di più. Secondo me anche una buona fascia di studenti gli può tornare utile un libro del genere, no? Sia se vogliono fare cose, lanciare business, eccetera, eccetera, sia invece se non vogliono fare quella roba là, vogliono fare un lavoro da dipendente, perché secondo me ti dà comunque alcuni suggerimenti dal punto di vista di approccio che possono essere molto molto utili, applicati, no? Sempre per colmare un po' quel gap tra la teoria universitaria e poi la pratica del mondo aziendale vero e proprio. Quindi dicevo, sicuramente c'è quell'aspetto là, importante, non è esagerato nei toni, quindi non ha quelle americanate dentro, passatemi un po' il termine, no? Di chi vi vuole vendere sempre il sogno. Perciò dicevo, non fatevi fregare dal titolo, cioè lui non c'ha da vendere niente alla fine, fa un altro lavoro, fa l'imprenditore. Sta roba l'ha sempre divulgata, la fa pure su YouTube da parecchio tempo e così via. E poi c'è anche un altro vantaggio, secondo me, un altro bel lato positivo, il fatto che non è uno di quei libri mono-argomenti. Avete presente che a volte ci sono quei libri che hanno una cosa da dire e per 300 pagine parlano sempre della stessa cosa? Che tu dici, guarda, ma io l'avevo capito già nelle prime 5 pagine, ce l'hanno molti i libri americani, questa roba qua. Tipo, ti dico quell'argomento e poi ti faccio 200 pagine di esempi su quella cosa. Qua no, cioè nel senso che ogni capitale è una cosa diversa perché, come dicevo prima, il senso è proprio che vi prende da un punto e vi porta per mano fino a quell'altro punto. Alcune cose magari le sapete già, le potete saltare o ve le rinfrescate un pochino e su altre invece ve le andate a vedere con calma. Vi metto il link qua sotto in descrizione se volete prenderlo. Non c'è in italiano al momento, quindi bisogna leggerlo in inglese. Million Dollar Weekend di Noah Kagan. Il link qua sotto ovviamente è un link affiliato Amazon, quindi sapete che se lo comprate da qui Amazon mi dà una piccola percentuale. Non mi ci compro alla Stone Martin, però è un modo per ringraziarmi se vi piacciono i contenuti che vi porto qua sopra. Fatemi sapere se volete che vi porto più libri. Io ho comunque intenzione di farlo perché mi manca parlare di libri e mi piace riprendere in mano questo argomento, quindi lo farò. E se volete andare a recuperare magari qualche altro video dove ho parlato di libri, andate qua e vi recuperate questo video dove parlo dei libri sull'intelligenza artificiale che dovete leggere assolutamente. Grazie a tutti.